Quello di oggi è stato un pomeriggio trascorso in maniera diversa nel segno del ricordo di Nuccio Geri, proprio nel giorno in cui Nuccio nasce, il compleanno di Nuccio Geri. E lo abbiamo voluto ricordare grazie all'input e alle sollecitazioni di Piole Inside con il presidente Gaetano Gebbia e con il comitato regionale Calabria della FIP, con il presidente Paolo Surace, qui nel palazzetto di Archie per apporre una targa in suo ricordo, grazie anche all'operato che ha fatto lui durante gli anni in cui è stato allenatore di tantissimi giovani che proprio qui oggi si sono ritrovati per ricordarlo tutti i ragazzi e ragazze che hanno avuto come coach Nuccio Geri per di nuovo sui campi, sul campo da basket, quello che era il luogo più a lui congeniale e quello grazie al quale lui riusciva a trasmettere, a trasferire ai suoi giovani una voglia di gioco, una voglia di vita, una passione per il basket ma una passione poi che si rivela una passione per la vita. Abbiamo posto una targa in ricordo di Nuccio Geri nella palestra di Archie, una persona che ha dedicato tutta la sua vita per il mondo del basket, per lo sport, un educatore, tantissime generazioni si sono formate ed è stato un educatore, una persona che ha formato e ha dato quei valori importanti che è il mondo dello sport. Le società regine, la federazione basket ha organizzato questo evento per ricordare una figura, come dicevo, importante e che deve essere imitata e ricordata.